Due giorni senza acqua a Messina la prossima settimana per un intervento nella condotta tra Fiume Freddo e la città peloritana. Un intervento, spiegano i tecnici, importante prima dell'arrivo dell'autunno. Da martedì per due giorni a Messina l'acqua arriverà col contagoccio, un sacrificio necessario, dicono dall'AMAM, l'azienda Acque, che dovrà tagliare la vecchia condotta di Fiume Freddo per innestare la nuova tubazione. Sono infatti addirittura d'arrivo i lavori per la messa in sicurezza del versante a rischio nella zona di Fonda Coparrino a Forza d'Agro e da martedì si eseguirà la parte più delicata dei lavori che prevede il collegamento della tubazione adottrice dell'acquedotto di Fiume Freddo sul nuovo tracciato. Un innesto di circa 200 metri di tubazione che costringerà obbligatoriamente al fermo dell'attività di pompaggio. L'AMAM sta mettendo in campo tutte le risorse possibili per minimizzare i disagi con un programma straordinario che prevede anche degli approvvigionamenti attraverso fonti esterne alla rete cittadina. Il recupero dei livelli dei serbatoi si prevede possa avvenire solo per giovedì 26. È importante essere riusciti a completare i lavori prima dell'autunno con il rischio incombente del maltempo, legato alla stagione che ha alle porte e dunque dei possibili nuovi danni che agendo in modo tempestivo. Stiamo prevedendo, ha detto il presidente di AMAM, Salvo Puccio. Ed è inevitabile che torni alla mente dei messinesi l'emergenza dell'ottobre e novembre 2015 quando Messina rimase a secco per oltre un mese, un caso diventato nazionale.